Questa mattina presso l'ospedale di Muraglia a Pesaro si è svolto un evento importante e unico nella regione dal titolo Anatomia e chirurgia del ginocchio della caviglia, dalla teoria alla pratica. Presente anche un track attrezzato con tanto di sale operatoria e pezzi anatomici per lo sviluppo delle tecniche chirurgiche. All'evento hanno preso parte gli studenti del liceo classico Nolfi di Fano e liceo scientifico di Pesaro. È un evento che abbiamo pensato di utilizzare per far conoscere quello che facciamo all'interno delle nostre sale operatorie coinvolgendo anche delle scolaresche. In un'epoca in cui abbiamo delle carenze di medici ci è sembrato giusto cercare di far conoscere il nostro lavoro finalizzato anche alle nuove generazioni. È il primo che viene fatto in una struttura ospedaliera, è il primo che viene fatto a Pesaro. Pesaro già negli anni precedenti era una struttura che faceva molta chirurgia atroscopica. Penso che possa essere una giornata proficua. Si tratta nient'altro che di un'attività formativa destinata all'equip diretta dal dottor Memè qui all'ospedale di Pesaro. Il nostro camion è una sala operatoria itinerante a tutti gli effetti. Sul camion si possono trovare due postazioni che sono due sale operatorie reali a tutti gli effetti. Su queste due sale operatorie gli specializzati e gli specializzanti dell'ospedale potranno esercitarsi sulle ultime tecnologie in campo ortopedico, quindi di ricostruzione specificatamente su ginocchio e su piede e caviglia. Noi stiamo sperimentando ormai da tre anni questa attività didattica di curvatura biomedica che riteniamo molto importante, sulla quale vogliamo investire. I giovani, i nostri studenti sono molto soddisfatti. È una chance in più, chiediamo agli studenti del liceo classico, soprattutto a coloro che hanno un'aspirazione di frequentare studi universitari in ambito sanitario o medico. Abbiamo ancora soltanto gli studenti del nostro ultimo anno, quindi non possiamo già dare un giudizio sulla efficacia in termini di prosecuzione universitaria, però possiamo già darlo in termini di soddisfazione dei nostri studenti. Coloro che si apprestano a sostenere soprattutto il test di ammissione per il prossimo ingresso universitario a medicina si dicono già sufficientemente preparati rispetto a loro compagni che non hanno frequentato questo tipo di opportunità, quindi crediamo che sia un'opportunità importante che dia agli studenti che aspirano a frequentare studi di carattere sanitario una preparazione più qualificata in vista dei loro studi futuri.